Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un mandrino che viene utilizzato su mini trapanini per lavori di precisione e può montare punte da un millimetro a sei millimetri. Il passo del filetto è M8, quindi è un M8 e lo possiamo usare anche su frese, su CNC, è un mandrino molto valido e chiude punte da un millimetro a sei millimetri. Grazie, vi aspettiamo al prossimo video.